In breve Anche il Consiglio regionale del Piemonte ha aderito lunedì 4 giugno con un momento di riflessione di cordoglio alla giornata di lutto nazionale istituita dal Consiglio dei Ministri per le vittime del terremoto che in queste settimane ha sconvolto l'Emilia Romagna. Alle 12 nel cortile di Palazzo Lascaris il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo alla presenza dell'Ufficio di Presidenza e di numerosi consiglieri e dipendenti ha svolto la commemorazione e ha invitato i presenti a osservare un minuto di silenzio.